ragazzi 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 io stasera mi rode talmente il bucio del culo ragazzi che non potete neanche immagino c'ho un rodimento di quelli de culo che che manco se mi avesse inculato rock così freddi sentirei così male guarda non se può non se può perdere una partita del genere non se può sono incazzato nero incazzato nero perché ci sono dei giocatori ragazzi che mi fanno mi fanno incazza troppo mi fanno incazza troppo e perde una partita del genere 20 tiri a 4 non ha mai preso la porta 20 tiri a 4 io non voglio parlare dell'arbitro perché l'arbitro noi non possiamo accampare sempre le stesse scuse sull'arbitro decisioni io dico soltanto che zagnolo nel primo tempo su quell'azione se si buttava per te la rigore tutta la vita anche se sicuramente non gli avrebbero dato quell'altri due il secondo forse lui accento la caduta troppo dopo però erano trattenute comunque reciproche cioè raga io non mi voglio attaccare all'arbitro l'arbitro ha sbagliato soltanto nel primo tempo nella distribuzione dei cartellini perché derune doveva stare sotto la doccia almeno mezz'ora mezz'ora avremmo giocata 11 contro 10 al secondo tempo per il resto non me ne frega un cazzo però però abbiamo scoperto che senza di bala sta squadra non vince perché è l'unico che pia la porta è l'unico che c'ha la tecnica che pia la porta è l'unico che c'ha la personalità per prendere la palla e metterla sotto l'incroce risolvere le partite stasera non c'era perché si è fatto con i sentimenti flessori speriamo che non sta troppo fuori detto questo non è che noi se non gioca di bala non potremo vincere le partite cioè io stasera alla squadra non posso di nulla perché probabilmente è stata la miglior partita della stagione questa fino adesso per voglia per cattiveria per intensità per determinazione per voglia di portare a casa i tre punti però noi siamo vittime siamo vittime dei nostri errori questo è noi solo con noi stessi ce la potremo prendere perché hai perso questa partita perché tu hai fatto degli errori individuali pesanti e partiamo dal gol loro io dico cristante che cazzo sta a fare in mezzo all'aria tu ti devi mettere al limite dell'aria perché devi coprire quella parte di campo sei un centrocampista non sei un cazzo di difensore i difensori stavano tutti in aria cioè tu non ti puoi mettere lì in mezzo senza reggerti nessuno senza capire che al limite dell'aria può venire un giocatore dell'Atalanta su una ribattuta e tira in porta e magari segna come è successo cioè cristante è il limitato di cervello non può giocare pallone a me mi sta venire l'acido a vederlo giocare stoppa la palla ci mette tre ore se gira ci mette tre ore per passare la palla ci mette tre ore hai rotto i coglioni pure Mourinho ha rotto i coglioni a far giocare a sto cadavere io non lo posso più vedere avevamo comprato Camarana ha fatto neanche il minuto oggi che cazzo l'avevo comprato a fa' porca troia a me sta cosa non mi va giù non mi va giù non mi va dovete scalvini che poi come al solito contro noi fanno tutti il tiro dalla domenica c'è scalvini c'è avuto il tempo di stoppa la palla deve vedere la porta deve vedere il portiere deve vedere se sui spalti erano venuti a vederlo ha preso la mira e ha segnato ed è un god e merda da prende perché lì c'è deve stare il centrocampista che copre e non c'era prima cazzata e god e merda preso perché noi i gol se li famo da soli come quelli a Udine e compagnia bella dopo il gol la Roma ha fatto una grandissima reazione la partita per mezz'ora è stata una partita molto tattica molto combattuta a centrocampo molto noiosa pure se può dire dopo il gol l'oro si è vivacizzata perché la Roma ha cominciato a giocare a pallone non si sa perché devi prendere il gol per cominciare a fare qualcosa lì davanti non lo puoi far subito cioè io pure questa cosa non la capisco non la capisco non la capisco e qui viene il secondo problema della Roma di questa stagione che crei 18 milioni di palle e gol e non riesci mai a buttarla dentro mai a buttarla dentro e ci abbiamo un giocatore in questo momento che è la controfigura brutta e sbiatita di quello dell'anno scorso Abram in queste condizioni deve fare panchina perché se la sente troppo calda perché se sente fenomeno pure lui e non vede la porta manco se la mettono spalancata un metro perché tu non te puoi mangiare quel gol davanti alla porta non te lo puoi mangiare non è non è ammissibile che tu te mangi un gol del genere poi sulla seconda occasione da una palla troppo lunga e Banez che arriva col passo lungo e il portiere riesce a ribattere altro errore poi fa un altro errore su quell'altra azione se mangiare un altro gol cioè la Roma al primo tempo poteva stare 3 a 0 e invece sta 0 a 1 perché Abram decide di fare la sega davanti alla porta ma raga mi rote il culo peggio di Udine stasera mi rote il culo peggio di Udine ve lo giuro mi rote il culo peggio di Udine perché vede una squadra che gioca così oggi e perde a me mi rote il culo in una maniera allucinante allucinante secondo tempo poi la Roma ha dato tutto che cazzo vogliamo fare cazzo vogliamo dire parte quelle due cose del designologo e cose io non voglio entrare perché lì sono contrasti del gioco poi dallo poi non dallo del qua del sud e giù non me ne frega un cazzo la Roma se faceva i gol che doveva fare ha vinto 4 a 1 oggi stavamo tutti a casa quindi non si attaccava all'arbitro anche se quel chifio è scarsissimo sui cartellini ha fatti i danni come alla grandine però tu non ti puoi mangiare tutti quei cose non ti puoi mangiare tutti quei cose Zaniola è nata a sprazzi ha fatto delle giocate strepitose ad altri meno buone non prende manco lui la porta manca a pagamento non si può fare così Pellegrini è andato a carrente alternata ha lottato ha combattuto per cavità però anche lui non lo vedo determinante e concreto come quello dell'anno scorso anche oggi ha sbagliato tanti palloni Spinazzola è la controfigura di quel giocatore che noi apprezzavamo prima dell'infortunio Selic è quello che è la difesa oggi devo dire è stata perfetta cioè non gli esepò di niente la difesa oggi secondo me il migliore campo è Ibanez perché oggi Ibanez ha fatto un partitone Matic ha fatto la sua nesta partita per quello che può fare 34 anni giocando ogni tre giorni che cazzo dobbiamo fare ragazzi che cazzo dobbiamo fare questi sono tre punti persi sono tre punti persi come quelli con Udine come quelli con Ludo Goretz anche se ripeto oggi la squadra ha dato tutto ma tu la devi buttare dentro sta cazzo di palla porca troia la devi buttare dentro ha fatto più show muro dove negli ultimi cinque minuti più recupero che in tutta la partita Abram ha sfidato il gol du Horte cioè raga sui calci d'angolo oggi che noi siamo la squadra più pericolosa della Serie A non avevamo preso mai alla porta e il colpo di testa di Ibanez che è uscito dei pochissimi e quello dei cristanti durante il recupero cioè oggi oltre al fatto che sommettiamo al culo da soli ci ha detto pure sfiga della madonna però noi se la potremo prendere solo con noi stessi la palla va buttata dentro se devo non svegliare lì davanti Zagnolo deve essere più concreto deve evitare fare le giocate da fenomeno e deve piare la porta quando tira non solo contro l'Elzing chi fa i fenomeni Belotti ha lottato però porca puttana pure lui Cristo santo perde diecine dei palloni Abram ripeto per me deve fare panchina un paio di partite per farsi un bagno di umiltà assolutamente fai giocare Belotti fai giocare Asciomuro che sono comunque giocatori che quando entrano qualcosa la fanno è rientrato Zaleschi ha fatto più Zaleschi con quella palla filtrante per Asciomuro che spinazzola in tutta la partita che ha sbagliato 18 milioni dei cross come hanno sbagliato 18 milioni Selic cioè ragazzi sta squadra ha dei limiti e siamo d'accordo però se tu perdi le partite perché non leggi bene le situazioni defensivamente e hai giocatori poco intelligenti che non capiscono che si mettono in una posizione del campo sbagliata come Cristante al gol loro e davanti fai 20 tiri e non prendi mai alla porta e te mangi 3-4 a partita le partite le perdi le perdi Cristo santo ragazzi basta non c'ho più fiato non c'ho più cazzature stasera c'è la live con Michi verso le 9 ne parliamo anche se sarà dura per adesso che vedevo di ragazzi sempre forza Roma ora c'è sta pausa speriamo di recuperare gli infortunati e speriamo che dopo sta sosta la Roma possa andare a Milano e vince ora non so se è Roma-Inter o l'Inter-Roma ma devono vincere ora contro l'Inter perché non potevamo permettere più di far passi falsi grazie